Ciao e benvenuta a Piccoli Passi di Educazione Positiva. Qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile, consapevole e rispettosa, positiva, nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passato in azienda, oggi consulente genitoriale e fondatrice del Summit per l'educazione positiva. Stiamo preparando una nuova edizione! E del percorso online per genitori Tempo per crescere, che aprirà le sue porte tra poco. Quindi preparati perché abbiamo un sacco di sorprese in arrivo e non vedo l'ora di rivelartele pian piano tutte. Intanto oggi esploriamo insieme nuovi punti di vista sulle soluzioni che possiamo trovare insieme ai nostri bambini quando c'è un comportamento che non va. Un respiro, un sorriso e cominciamo! Allora, sono molto contenta di ritrovarti questa settimana e intanto che sto facendo sessioni di preparazione intensissime per un nuovo evento gratuito che aprirà poi le nuove iscrizioni a Tempo per crescere per i quali sto studiando e preparando un po' di novità, quindi non vedo l'ora di rivelartele tutte quante. Nel frattempo, volevo esplorare quanto è approfitto della domanda che ho ricevuto giustamente durante un incontro di Tempo per crescere con le mamme in cui, insomma, si discuteva un po' il come fare quando, ok, c'è un problema. Abbiamo capito un bambino che rifiuta la nostra regola o che rifiuta la nostra richiesta con vehemenza, si arrabbia, megacrisi, frustrazione. Noi abbiamo capito, ok, che è importante creare una connessione, accogliere le emozioni, dire che lo capisco, bla bla, però poi cosa faccio? Perché nel frattempo rimane che il mio bambino non vuole fare quello che io gli sto chiedendo che però è importante e se gli propongo di trovare insieme un'altra soluzione, lui mi tira fuori delle robe su cui io non sono assolutamente disposta, che sono impossibili. E quindi lì, cosa devo fare? Cosa devo dire? Aiuto! Anzi, ribadendo la mia posizione, vedo il mio bambino che ritorna a reagitarsi e quindi torniamo al punto di partenza, quindi lì mi sento un attimo bloccata. Cosa devo fare? E trovo una domanda super, 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 super interessante da affrontare insieme, perché poi è molto concreta e situazioni della vita di tutti i giorni. Partirei proprio dall'esempio, da un esempio che possiamo prendere qualunque, può essere mangiare ancora il cioccolato a merenda e la seconda barretta, quindi basta e la soluzione per il bambino è... ma sì, la soluzione per me è mangiare tutte le barrette di cioccolato che voglio. Oppure, non so, guardare i cartoni animati, dove quindi la risposta, la soluzione proposta dal bambino è guardare un numero di episodi infinito. Come possiamo... come possiamo fare? Come possiamo fare? Allora, partirei da quelle che trovo essere... non mi piace chiamarli errori, sono il flusso dei nostri pensieri e dei nostri atteggiamenti che ci porta poi ad arrivare a un punto di stallo. Qual è in questa dinamica che abbiamo descritto insieme? E che ritroviamo tutti, penso, almeno io la ritrovo tante volte. Allora, cioè tante volte nel mio percorso personale. Qual è il vero problema che si vuole risolvere? Perché quando si cerca una soluzione con i bambini, si parte dal presupposto che abbiamo un problema e vogliamo trovare insieme un modo che vada bene a tutti per risolvere questo problema. Il punto è che il problema deve essere lo stesso per tutti per poter trovare una soluzione che vada bene. In questo caso osserviamo insieme qual è il vero problema che si cerca di risolvere. Per la mamma il problema è la reazione del bambino. Cioè, sto preparando la cena e ho la cena pronta ed è ora di spegnere oppure abbiamo guardato la regola in casa che si guarda 20 minuti e poi bisogna spegnere e andare a fare altro e quando è il momento di spegnere il mio bambino si rifiuta e fa una mega crisi perché invece lui vorrebbe continuare a guardare cartoni, videogiochi, quello che è. Così come potrebbe essere la merenda e voglio continuare a mangiare la cioccolata. Con il cucchiaino, ok? Quindi il problema della mamma è risolvere questa arrabbiatura e questa opposizione da parte del figlio. Per il bambino qual è il problema? Il problema del bambino non è la sua arrabbiatura. Il problema del bambino è che è il numero di barrette di cioccolato da mangiare o il numero di cartoni da guardare, ok? E quindi qui si intravede un primo elemento di blocco. Cioè non si può trovare una soluzione comune a due problemi diversi. Stiamo lavorando su un'incomprensione di partenza, ok? Che il problema non è un problema comune. E quindi come possiamo trovare insieme una soluzione finché non abbiamo chiarito qual è il problema? Ritorno al punto, a un assioma fondamentale. Il fatto che l'abbiamo sottolineato tante volte ed è un punto essenziale dell'educazione positiva anche secondo tutte le ricerche scientifiche che volete andare a cercare la presenza, cioè il creare questa connessione empatica il far vedere al bambino che capiamo il suo punto di vista capiamo il suo vissuto emotivo, lo validiamo, lo legittimiamo. Questa connessione, questo validare, legittimare il suo punto di vista non significa necessariamente cedere nella richiesta che il bambino sta facendo significa capisco che sei arrabbiato, capisco che ti fa arrabbiare questa cosa e qui c'è un po' la seconda incomprensione. Cioè nel momento in cui il nostro obiettivo è risolvere tra virgolette o evitare un'emozione da parte dei nostri figli e qui rischiamo di tagliarci, di tarparci un po' le ali perché i nostri bambini hanno le loro emozioni le loro emozioni che dipendono da come il bambino interpreta le cose e non abbiamo noi così tanta influenza cioè certamente possiamo tramite il nostro esempio tramite la discussione tramite un legame con i nostri bambini il tempo e la loro crescita far vedere loro un punto di vista diverso far vedere loro che mangiare la cioccolata fa male al pancino e che guardare troppi cartoni o fare troppi cartoni o troppi videogiochi fa male fino a che i nostri bambini non adottano anche loro la nostra prospettiva ma non possiamo costringerli a cambiare la nostra prospettiva così come se andiamo alla riunione di condominio non possiamo costringere i nostri vicini di casa a adottare la nostra stessa idea sul rifare o meno la facciata possiamo esporre delle argomentazioni e cercare anche delle argomentazioni convincenti prendendo in conto il punto di vista dei vicini certamente ma i nostri vicini restano liberi di pensarla come vogliono ed è la stessa cosa con i nostri bambini nel momento in cui i nostri bambini sono liberi di pensarla come vogliono anche la loro reazione emotiva dipenderà da come i nostri bambini pensano ed interpretano quello che succede loro quindi nel momento stesso in cui ci poniamo come obiettivo quello di cambiare una reazione emotiva ci stiamo già dando la zappa sui piedi un pochino possiamo quello sì certamente andare a facilitare insieme ai nostri bambini delle abitudini e delle routine per far sì che i bambini adottino via via più facilmente certi comportamenti anziché doverglielo sempre chiedere quindi sicuramente ci sono degli strumenti per collaborare è da lì che l'ascolto, l'abbiamo visto altre volte ci viene in aiuto perché il bambino che si sente ascoltato è un bambino sicuramente più ben disposto nel venire incontro a noi se non percepisce cioè se si percepisce veramente ascoltato se l'ascolto e la connessione nei nostri confronti è il nostro primo obiettivo se noi andiamo ad ascoltare il bambino a cercare di creare una connessione con lui perché la nostra finalità ultima è che faccia quello che vuole questo il bambino lo percepirà e capirà che non è un vero ascolto genuino ed è di che ci andiamo un po' a sbattere contro il muro quindi il nostro obiettivo deve essere sempre sempre soltanto la connessione con i nostri bambini il mostrare loro che li stiamo capendo fine a se stessa poi tutto quello che viene dopo è bonus e adesso andiamo a vedere concretamente come funziona aggiungo così in postilla sempre importante un altro elemento fondamentale perché ho parlato della riunione di condominio mentre con i nostri vicini di casa se sono degli adulti possiamo avvalerci su queste argomentazioni e farsi sapere che i nostri vicini di casa avranno il loro tempo di ragionamento nel caso dei nostri bambini questa capacità di ragionamento ovviamente in base alla loro età non è uguale alla nostra quindi non possiamo appoggiarci pienamente su questa capacità di riflettere e ragionare sulle cose lo dico perché anche qui è importante tenerla a mente vediamo allora la soluzione il fatto di trovare una soluzione insieme ai nostri bambini è un ottimo strumento utilissimo quando affrontiamo insieme un problema comune per esempio possiamo vedere insieme cari figli miei il fatto che lasciate i calzini sporchi per terra per me mamma o per me papà è un problema perché per me l'ordine è importante capisco che non lo so non vi dimentichiate per voi non è altrettanto importante eccetera però per me è davvero fondamentale quindi vediamo di trovare insieme dei modi per cui per cui sia voi possiate ritrovare i vostri spazi sia io possa stare tranquilla che i calzini verranno messi nel cesso della biancheria e allora lì possiamo trovare delle idee su per esempio quante volte alla settimana devono tenere pulito il pavimento non so magari non è tutti i giorni perché i bambini si dimenticano o non è la sera perché sono stanchi e possiamo trovare un momento diverso della settimana della giornata ok qual è l'elemento fondamentale che che ci aiuta e potrebbe poteva intervenire in una situazione come questa il fatto di ascoltare il punto di vista dei bambini ok prima però di trovare nuove strade io genitore io mamma ho bisogno di fare chiarezza su ciò che sta a cuore a me e perché e se c'è un margine di negoziazione diciamo così cioè nell'esempio dei cartoni animati che abbiamo fatto prima se il tempo se io mamma non sono disposta ad aumentare il tempo di cartoni o il numero di cartoni insomma poco importa perché siamo già arrivati in questo momento in questa fase di crescita dei miei bambini in base alla loro età a quello che secondo me è il tempo massimo che vorrei far loro vedere quindi non ho voglia non voglio non sono disposta ad aumentare questo tempo ok devo aver ben chiaro questo fatto e il perché nel momento in cui il mio bambino piange e protesta perché lui voleva continuare a guardare ancora cartoni animati faccio pongo la mia parte di comprensione e empatia e quindi mi immedesimo mi ricordo quando anche a me mi spegnevano i cartoni oppure se anche io voglio guardare una bella cosa e mi dicono che devo spegnere come mi fa sentire questa cosa qui cerco di fare anche delle domande caspita amore capisco che ti dà fastidio ma cos'è che ti piace tanto nel cartone dai raccontami quali sono i tuoi cartoni preferiti sarebbe proprio bello se alle volte anche a me piacerebbe passare tutto il giorno a guardare i miei film preferiti eh lo so è bellissimo quando siamo arrivati in uno stato di calma entrambi ed è il momento di trovare una soluzione devo avere questa chiarezza di capire per che cosa voglio trovare una soluzione cioè la soluzione è sul tempo dei cartoni o sul facilitare questa transizione verso la fine dei cartoni perché questo guiderà la mia conversazione con i bambini nel guidare la mia conversazione con i bambini quello che posso iniziare a dire nel momento in cui siamo in calma il mio bambino si sente ascoltato a questo punto posso aprire io il mio cuore a qual è la mia parte in questa dinamica ed è quella di dire amore mio guarda capisco che a te piacciono tantissimo i cartoni e è anche importante che non se ne guardi più di che non se ne guardino troppi o più di un certo tot perché anche se per te è ancora difficile da capire questo tempo davanti agli schermi può farti male nel come il tuo cervello cresce e si rinforza quindi io lo so che a te piacerebbe stare tutto il giorno ma non è possibile così come non è possibile mangiare soltanto cioccolata e zucchero tutto il giorno perché anche se è buonissimo poi ti farebbe male al pancino poi in base all'età naturalmente possiamo adattare questo discorso e adattare questi esempi e se è capitato ai nostri bambini di fare esperienza delle conseguenze di quando non so si va a dormire troppo tardi e poi la mattina si svegliano tutti stanchi oppure mangiano troppo gli viene mal di pancia possiamo fare riferimento a queste esperienze della loro vita e quindi la domanda che possiamo porre adesso a questo punto al nostro bambino o alla nostra bambina è visto che è così difficile per te smettere di mangiare cioccolata o smettere di guardare i cartoni che soluzioni possiamo trovare insieme perché questo passaggio ti sia un po' più facile magari possiamo mettere un timer magari possiamo decidere fin da prima un bel gioco da fare dopo i cartoni in modo che ok spegniamo i cartoni però almeno dopo andiamo a fare una cosa divertente insieme o dopo la merenda ok oppure decidiamo insieme che dopo la merenda mettiamo una canzone andiamo a ballare insieme una canzone che ti piace che la scegli tu cioè aiutiamo i nostri bambini a fare questa transizione dal momento che a loro piace al resto quindi quando devono interrompere e poniamo la ricerca di soluzioni già orientata a quello che è il vero problema perché se noi chiediamo facciamo una domanda aperta al nostro bambino e i nostri problemi non sono gli stessi chiaramente la risposta del bambino è bebe mamma ma il problema se per te il problema è che io mi arrabbio basta che mi fai guardare tutti i cartoni che voglio io non mi arrabbio più abbiamo risolto ok quindi dobbiamo essere ben chiari nel nostro porre la discussione e nel nostro porre le nostre domande nell'avere i nostri paletti ben chiari e nell'avere ben chiaro qual è il problema che vogliamo risolvere insieme al nostro bambino in questo modo lo strumento diventerà davvero super efficace io ti ringrazio ti invito a mandare le domande che ti possono avere che ti possono venire nella vita quotidiana con i tuoi bambini se hai voglia di affrontarle insieme nel podcast e stai rimani connesso non perderti le prossime puntate perché ci sono tutte le novità in arrivo di cui ti comunicherò al più presto un abbraccio a prestissimo un abbraccio un abbraccio un abbraccio un abbraccio